L'incontinenza urinaria è definita come la perdita involontaria delle urine, cioè quindi quando il paziente non riesce a trattenere l'urina e fuoriesce e bagna gli slip. L'incontinenza urinaria è un problema molto diffuso soprattutto nell'età avanzata, spesso le donne dopo la menopausa, soprattutto quelle che hanno avuto delle gravidanze, soffrono di incontinenza urinaria, così anche come i grandi anziani che hanno problemi spesso di tipo neurologico e che quindi non riescono a trattenere le urine. Ma abbiamo anche una serie di pazienti giovani, per esempio alcuni in adolescenza che ancora hanno degli episodi di perdite notturne, quindi bagnare il letto di notte, oppure anche ragazze giovani che soffrono di forme di incontinenza dovute a, per esempio, cistiti ricorrenti, quindi a situazioni in cui lo stimolo a urinare è talmente forte e impellente che non si riesce a trattenere l'urina. L'incontinenza urinaria è un grandissimo problema, è un grandissimo problema perché pone grandi problemi di relazioni sociali, perché i pazienti quando si trovano bagnati e spesso con gli indumenti maleodoranti, vivono malissimo questa situazione, questa situazione crea delle grosse problematiche nelle relazioni con gli altri, quindi i pazienti che soffrono di questo problema e non riescono a porre rimedio, spesso si chiudono in se stessi, rimangono in casa, soffrono di depressione e quindi questo è un problema non soltanto personale, ma diventa anche un problema sociale. Ricordiamo innanzitutto che l'incontinenza è un sintomo, non è una malattia. Noi dividiamo l'incontinenza fondamentalmente in tre tipologie, l'incontinenza urinaria da sforzo, l'incontinenza urinaria da urgenza e l'incontinenza mista, che è un tipo di incontinenza in cui sono presenti le prime due componenti. L'incontinenza urinaria da sforzo è definita come la perdita involontaria di urine quando il paziente fa uno sforzo fisico o quando comunque aumenta la pressione addominale. Questo può succedere anche banalmente quando si hanno dei colpi di tosse o si fanno degli starnuti, oppure quando si sollevano dei pesi, ad esempio una cassetta di frutta o il cartone di acqua. In questi casi l'aumento di pressione addominale supera la pressione che l'apparato sfinteriale è in grado di contrastare e quindi si ha la perdita dell'urina. Per quanto riguarda invece l'incontinenza da urgenza, questa si manifesta quando la vescica ha una ipercontrattilità, cioè quando la contrazione del muscolo vescicale diventa particolarmente elevata e incontrollata e quindi il paziente non è in grado di trattenere le urine. Quindi molto spesso in presenza di un forte stimolo il paziente non riesce a raggiungere un bagno in tempo per potersi svuotare senza bagnarsi. Infine appunto ci sono le incontinenze miste che hanno sia la componente da sforzo sia quelle di urgenza. Una diagnosi precisa dell'incontinenza e delle patologie che la possono provocare sono effettuate attraverso una serie di esami. Oltre ovviamente alla raccolta dei dati anamnestici del paziente, quindi alla sua storia clinica, alla raccolta dei segni e dei sintomi che il paziente ha, vanno fatti alcuni accertamenti. Il primo accertamento base che va sempre fatto è il semplicissimo esame delle urine e l'esame culturale dell'urina, cioè la cosiddetta urinocoltura, che ci serve a stabilire se all'interno dell'urina ci sono degli elementi patologici, ad esempio dei batteri oppure dei cristalli che possono essere segno di una calcolosi delle vie urinarie. Un altro esame fondamentale è un esame morfologico non invasivo che è la ecografia dell'apparato urinario, quindi l'esame con cui attraverso una sonda appoggiata sull'addome si vanno a studiare tutti gli organi dell'apparato urinario, quindi i reni, la vescica e nel maschio anche la prostata. Dopodiché possiamo fare una serie di esami un pochino più invasivi e più approfonditi, sempre per andare a cercare una diagnosi precisa. Questi sono ad esempio la cistoscopia, quindi l'esame endoscopico con cui si va a guardare l'interno della vescica e tutto il canale dell'urina che si chiama uretra, attraverso il quale possiamo stabilire numerosi elementi patologici, ad esempio la presenza di polipi vescicali, la presenza di calcoli, di diverticoli, cioè di tutte quelle cause che possono poi provocare la perdita dell'urina. Un altro esame specialistico molto specifico che va sempre effettuato nei casi diciamo non chiari di incontinenza è un esame che si chiama esame urodinamico invasivo completo, che è un esame che serve a stabilire tutto il funzionamento pressorio e funzionale dell'apparato urinario, quindi attraverso delle sottili sonde che vengono posizionate all'interno dell'uretra della vescica si stabilisce come la vescica si contrae, come il muscolo sfinteriale reagisce a questa contrazione e quindi a come il paziente urina e perde le urine e quindi attraverso questo esame possiamo avere una diagnosi precisa del tipo di incontinenza e delle cause che sono dietro ad essa. La terapia si avvale di numerosi accorgimenti, innanzitutto ci sono delle norme comportamentali ad esempio legate all'alimentazione, a un'alimentazione corretta, alla corretta introduzione di liquidi giornalieri e in più anche a una serie di esercizi per esempio fisici, esercizi muscolari di fisioterapia che servono a migliorare la funzionalità dell'apparato muscolare che regola l'apparato urinario. Per quanto riguarda invece la terapia farmacologica oggi ci possiamo avvalere di farmaci che possono da un lato ridurre la contrattilità vescicale, quindi soprattutto nei casi di incontinenza d'urgenza dovuti a una ipercontrazione della vescica, oppure a dei farmaci che servono a migliorare il tono muscolare del pavimento pelvico, quindi abbiamo questi farmaci che aumentano la pressione che può sviluppare il muscolo sfintere. Infine abbiamo una serie di terapie di tipo chirurgico a seconda della tipologia dell'incontinenza, faccio alcuni esempi, nelle donne che hanno un'incontinenza da sforzo dovuto a un prolasso dell'apparato urinario, per esempio dovuto alle gravidanze, allora possiamo fare degli interventi di risollevamento degli organi, quindi sia della vescica che dell'utero, posizionando delle benderelle oppure delle protesi che fanno un po' da amaca a questi organi e che quindi risollevandoli si riporta alla posizione originale che permette il corretto funzionamento di tutto il sistema. Nell'uomo possiamo utilizzare nei casi in cui è stata fatta una chirurgia della prostata che quindi può produrre dei danni allo sfintere una serie di interventi chirurgici. Il più semplice e meno invasivo è l'impianto di una protesi che si chiama Pro-ACT e che sostanzialmente serve a fare una compressione sull'uretra attraverso due piccoli palloncini di silicone, un intervento che si fa in dei hospital e in anestesia locale. Interventi un pochino più invasivi sono anche nell'uomo il posizionamento delle benderelle, quindi di queste amache che riportano l'apparato sfinteriale più in alto e quindi in una posizione più idonea per il suo funzionamento, oppure come intervento più invasivo e definitivo, il posizionamento di uno sfintere urinario artificiale. Sì, oggi soprattutto per alcune condizioni, ad esempio l'incontinenza urinaria che si verifica dopo il parto, quindi dopo le gravidanze, abbiamo la possibilità di fare dei trattamenti fisioterapici, quindi tramite degli esercizi muscolari che servono a ridurre il rischio che si abbia un'incontinenza urinaria post partum, oppure che possa provvedere a un recupero più rapido dopo la gravidanza della continenza urinaria. Anche nel maschio questo viene oggi praticato attraverso una ginnastica del pavimento pelvico che si fa precocemente dopo l'intervento di prostatectomia radicale. Abbiamo anche la possibilità prima dell'intervento di iniziare a fare questi esercizi che servono a arrivare al momento dell'intervento chirurgico con un apparato muscolare ben allenato e pronto per sostenere il problema dopo l'intervento. Visita il sito e iscriviti ai nostri canali. E tu, sei up?